Il patto di stabilità è una legge che impedisce ai sindaci di fare il loro dovere nei confronti dei cittadini. Così Graziano Del Rio, presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sintetizza il malumore dei sindaci durante il Consiglio Nazionale del Lanci, che si è tenuto mercoledì 29 a Castel dell'Ovo. Le norme sul patto di stabilità tengono a freno la spesa pubblica, ma per i comuni il divieto di spendere si traduce spesso in una riduzione del servizio pubblico. A Napoli, per esempio, per effetto del patto di stabilità, nel corso del 2011 si sono fermati i cantieri per la costruzione degli alloggi popolari, se congelata la manutenzione delle grandi strade cittadine, se rallentata la messa in sicurezza delle scuole, come ricorda l'assessore al bilancio Re Alfonso. Le tutele garantite dalla Costituzione non possono essere attenuate con la legge ordinaria. Con questo ragionamento i sindaci hanno ritenuto possibile derogare alle restrizioni di spesa quando le garanzie dei cittadini hanno una priorità inderogabile. Il governo deve modificare il patto di stabilità per essere coerente con l'intento dichiarato di tenere insieme risanamento, sviluppo ed equità, dichiara Fassino, sindaco di Torino. E il sindaco di Pavia, Cattaneo, rilancia. Assistiamo a una crociata che ci vuol far credere che le liberalizzazioni sono l'unico modo per salvare il Paese. Non è così. Il patto di stabilità è inaccettabile, così come è formulato, perché non consente di spendere soldi che abbiamo in cassa per politiche sociali, edilizia scolastica, manutenzione di strade, beni primari. Quindi noi abbiamo assunto la determinazione di chiedere da oggi immediatamente, non per il 2013, da oggi al governo di avere il patto di stabilità, altrimenti in adempimento dei valori costituzionali noi non lo rispetteremo e nelle delibere indicheremo che lo faremo in osseguo ai principi costituzionali e all'interesse pubblico. Napoli è una delle grandi capitali europee non da oggi e quindi mi pare il luogo giusto dal quale far ripartire l'Italia. Oggi abbiamo dato una dimostrazione di compattezza istituzionale senza distinzione tra sindaci di destra e di sinistra, che è la vera forza dell'Italia. Mentre qualcuno a Roma ancora pensa esclusivamente alle prossime elezioni, noi stiamo tentando di rispondere ai bisogni dei cittadini e lo facciamo con il sistema De Magistris, credo che sia questo, cioè non quello di scassare, ma quello di prendere la Costituzione e di applicarla per come essa è oggi e non come qualcuno pensa di modificarla tra un po'. Oggi si dice che un sindaco ha il dovere diretto di salvare la vita delle persone quando vanno in macchina, quando vanno a scuola, quando frequentano i locali pubblici. Questa è la rivoluzione alla quale stiamo mirando, una rivoluzione basata su cose piccole fatte tutti i giorni e fatte per bene. Grazie a tutti.